Ma buongiorno, buongiorno amici, allora oggi che giorno è? Oggi è il 25 giugno, martedì, the day after, the day after la grande paura che siamo presi ieri sera. Ma prima di iniziare vi ricordo iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, oggi ho detto un bel, un bel like al video, commentate e condividete con i vostri amici. Poi ovviamente attivate la campanella, attivate la campanella per non perdere nessuna delle mie live, nessuno dei miei video. Allora ragazzi, dicevo, the day after, dopo la grande paura, ieri sera veramente una serata horror con gli azzurri, perché una partita che sembrava seguire in canovaccio abbastanza scontato, la Croazia che cercava di fare la partita, l'Italia che attendeva, sviluppava in contropiede e secondo me nel primo tempo anche bene abbiamo creato delle occasioni, sicuramente rispetto alla partita che ha a Spagna siamo stati pericolosi, c'è un gol dei bastoni che si è mangiato, secondo me detesta perché lì deve incrociare sull'altro palo, invece cerca il primo ma non angola bene e praticamente gliela tira addosso al portiere della Croazia, quindi quello è un gol mangiato che poi cambia la partita, perché poi nei primi 5-10 minuti avviene l'episodio del rigore, il famoso cross, frattesi si gira di spalla, però purtroppo l'altro braccio, questo qua ce l'ha aperto, la prende con la mano, è rigore anche perché da replay che ce fanno vedenti, l'arbitro non vede che la sfiora prima con la spalla, ma comunque sia, io credo che anche avendo visto quel tocco sarebbe stato comunque rigore perché comunque il braccio aumenta il volume del corpo e quindi calcio di rigore per la Croazia, si abbatte Modric, lo para Donnarumma, oltretutto un episodio simpatico, ho visto poi dopo in calciomercato, non quello nostro, calciomercato e dintorni, ma quello secondo, che è quello de Bonan, ho visto che vedevo una partita lì nel luogo dove, sapete, calciomercato, quello de Bonan e Di Marzio è un po' itinerante negli ultimi anni, vanno un po' in giro per località, estive per reception, stavano in un albergo e c'era Zenga, dice io lo para tranquillo, facile, e gli ha apparato, e gliel'ha apparato effettivamente, quindi grande Donnarumma, poi l'azione susseguente, io penso un minuto dopo, arriva sto traversone, bastoni si abbassa, come per lasciarla Donnarumma, in realtà dietro c'è, se non sbaglio Calafiori con l'attaccante della Croazia, che riesce a tirare in porta, altro miracolo di Donnarumma, però stavolta è sfortunato, perché la rispinta distinto gli va verso il lato di Modric, e lui poi a rialzarsi ci mette quel secondo, due secondi in più che Modric, poi da lì, anche a 50 anni penso, non può fallire, quindi 1-0 para la Croazia e lì inizia il dramma, perché la Croazia oltretutto c'aveva tre quarti di stadio praticamente a favore, tutti i croati erano, c'era solo l'altra curva degli italiani, curva in una parte di tribuna, però tutte restano tutti i croati, quindi una bolgia pazzesca, Donnarumma era pieno di bottiglie di birra, di Coca-Cola dietro alla porta, pure davanti, in certi casi, fumoggini, eccetera, insomma il clima, se fa atteso però l'Italia c'ha 40 minuti per recuperare, solo che come al solito va in pappa, perché come ha detto anche qualche amico al commento dello short di questa mattina, sulla reaction che abbiamo avuto io, Ivo, al gol del Zaccagni al 98esimo, credo che sarà una reaction e passerà la storia, due romanisti che esurtano Angode e Laziale, però la maglia azzurra ci unisce tutti, ha detto che sembra che non hanno mai giocato insieme, in effetti dopo il gol sembra questo, in alcuni frangenti sembra che invece la nazionale riesca a sviluppare bene, poi logicamente ragazzi, tecnicamente sicuramente, l'abbiamo detto anche in live, l'abbiamo detto nelle partite precedenti, non siamo in questo momento la migliore nazionale italiana della storia, a livello tecnico, ci manca tanta qualità, se guardiamo, ripeto, a una generazione e mezza fa, insomma, c'avevamo Totti, c'avevamo Ter Piero, c'avevamo Pirlo, insomma, c'avevamo attaccanti come Toni, Vieri, Inzaghi, Gilardino, e tanti, mi sa che me le sto pure a scordare, c'era il problema di chi rimaneva a casa sul serio lì, perché Vieri rimase a casa nel 2006 e non c'è avuto la soddisfazione, purtroppo per lui del mondiale, soddisfazione che forse Bobbo, se era giusto che si toglieva anche lui, perché faceva parte di quel gruppo, purtroppo un infortunio lo fece fuori, oltre ovviamente anche alle scelte di Lippi, che premiò chi in quella stagione fece di più, quindi Inzaghi, Gilardino, Lucatoni, e oggi purtroppo questo problema non c'è, addirittura viene convocato un ragazzo che è stato squalificato tutta la stagione, era rientrato, credo un mese fa, in campo con la Juve, ieri oltretutto ha giocato e ovviamente ha inciso poco, perché sto ragazzo manca inevitabilmente del ritmo partita, è inutile negarlo, è abbastanza scontato, e quindi questo ci fa capire insomma quello che è il problema tecnico della nazionale, problema tecnico che poi viene anche aumentato da quelle che sono alcune scelte discutibili, secondo me De Spalletti tecnico, che io adoro perché lo ritengo un grande allenatore, ovviamente allenare la nazionale è qualcosa di diverso da allenare una squadra di club, perché devi comunque in pochi giorni, devi dare le istruzioni, tanto passa l'aereo perché io quando all'aperto purtroppo, porca miseria, fra un po' suonano pure le campane, fra undici minuti ve lo dico se mi allungo un po', dicevo purtroppo a nazionale non riesci come nel club a dottrinare bene i giocatori su come vuoi giocare, sugli schemi da fare, i movimenti, eccetera, eccetera, quindi fai molta più fatica e lui però ci mette pure delle scelte incomprensibili, io capisco che Di Lorenzo lui ha detto che sia come un figlio, però quando un giocatore non rende bisogna pure avere il coraggio di toglierlo pure apposta se è tuo figlio o se è quello che ti ha fatto vince tantissimo, ti ha reso famoso, mi viene in mente no? La parabola De Totti, finale con Spalletti, lì non si è fatto scrupoli per fargli capire che era arrivato a Cavolinia, a Totti forse in parte anche giustamente sicuramente il modo è discutibile, l'ho detto più volte, io nel litigio Spalletti-Dotti della fine carriera De Totti ho detto che la responsabilità stava da entrambe le parti perché Francesco doveva capire quello che era il momento che stava attraversando, anche se è difficile per ogni calciatore, no? Quando si spengono i riflettori, soprattutto per il calciatore del livello De Francesco Dotti e Spalletti ce lo doveva accompagnare con più umanità, proprio con più senso paterno appunto per tornare ai con un figlio, quindi io di Lorenzo sinceramente in queste tre partite non mi ha entusiasmato, anche se è un giocatore che a me piace molto e credo che meriti in occasione Bellanova, non solo perché è un giocatore nel mirino della Roma, ma perché è un giocatore che ha dimostrato nel campionato di essere un ottimo terzino e quindi io quantomeno a un certo punto l'avrei sostituito. Ci sono altre scelte che non mi hanno convinto, inizialmente mi ha convinto il cambio Scamacca-Retegui perché Retequi si è reso protagonista di alcune azioni molto pericolose, ieri abbiamo conquistato, io non so, un numero elevatissimo di calci d'angolo, quindi significa che la nazionale ha appressato e in maniera continua la Croazia, però poi dopo, ecco con l'ingresso di Scamacca, secondo me quella è stata la carta vincente, era quello che mi auguravo in diretta, per riportare la Croazia a stare più dietro perché la Croazia, dicevo, dopo il gol si è ovviamente entusiasmata, anche grazie al pubblico, si è gasata e stava giocando a mille all'ora. L'ingresso secondo me di Scamacca è stato importante perché l'ha messo in crisi, l'ha messo in crisi, ne avevano due i centrali da controllare, quindi si è abbassato necessariamente il baricentro della Croazia e l'Italia ha potuto proporre più gioco, ovviamente in maniera sterile, ragazzi, parliamo se è chiaro, perché non ci sono state grosse occasioni se non poi quella che creaga la Fiori, no? Con quell'incursione centrale e che riesce poi oltretutto in scivolata perché si era allungato il pallone a servire alla perfezione Zaccagni che poi in corsa fa un gola incredibile. In molti l'hanno paragonata a quello del Piero, secondo me quello del Piero era molto più difficile perché il portiere ce l'aveva davanti, ma è difficile e molto bello anche quello di Zaccagni perché in corsa a giro sul set ha fatto un grande gol. Quindi una grande paura, una grande preoccupazione per quello che è l'Italia, però il culetto ci assiste e quando ti assiste il culo in questi tornei forse è più importante te gioca bene, perché se tu giochi bene e più i pali vincono l'altri, per culo. Se il culo c'ha te è molto più probabile che vinci te. Quindi questo è sicuramente un ottimo segnale quello di ieri sera. Ovviamente non abbiamo fatto niente di clamoroso, non dobbiamo pensare che sarà il nostro europeo, però la nostra corsa continua, il nostro cammino continua. Sabato abbiamo alle 18 la Svizzera, la Svizzera che ho detto sempre ieri in live con Ivo, che non è più la Svizzera solo del cioccolato, dei mucche e dei banche, ma è anche la nazionale negli ultimi anni diventata una nazionale molto più seria, a giocare a pallone e quindi non sarà una partita facile. Non sarà una partita facile per tutti i problemi che c'ha l'Italia, che ho elencato solo quelli che mi vengono in mente, perché non me li sono scritti, ma dovrei fare un poema e dovrei fare un video da mezz'ora. Quindi ora l'importante era passare, riacquisire entusiasmo, secondo me, nel gruppo. Mi è piaciuto molto il pianto liberatorio di Calafiori, che passerà pure, no? Che passa in secondo piano, perché soprattutto le signore hanno notato nella posizione sdraiata e protuberanze, come si dice, interessanti. Però mi è piaciuto molto, insomma, questa reazione emotiva di Riccardo Calafiori, primo perché se lo merita, ragazzo, perché ha fatto una grande stagione e non si meritava, ad esempio, di uscire un europeo, dall'europeo, oltretutto sul groppone, l'unico gol che è riuscito a fare la Spagna, che appunto l'ha fatto lui e non Morata o altri giocatori. Poi perché è un figlio di Roma, ragazzo di Roma, quindi sono contento per lui e sicuramente, ripeto, se lo merita, se lo merita perché ha fatto una grande stagione. Ieri, tra mille difficoltà, ha fatto una buona partita e con personalità sta giocando. Non è facile per ragazzo che fino ad un anno e mezzo fa, ragazzi, stava al Basilea, anzi, fino ad un anno fa stava al Basilea, appunto, in Svizzera, in una squadra che non è tra le top d'Europa, ma forse anche il rapporto col Bologna stesso, al di là che ha raggiunto quest'anno la Champions, era inferiore al livello, no? dei ranking rispetto al Bologna, nonostante, ripeto, Bologna non abbia presenze europee. A livello di forza, insomma, Bologna è superiore. Quindi sono molto contento per Calafiori, che ha dimostrato di essere un giocatore e che potrà fare molto in carriera e quindi aumenta il rammarico per noi romanisti. Io stavo vedendo anche, ragazzi, il tabellone. Logicamente oggi ci interessa molto il girone di Francia-Olanda, perché è il girone, se non sbaglio, vediamo che girone è, io ve lo dico proprio così, che girone è, il girone è, non mi ricordo, ma è il girone E, o il girone C, e una tra Francia-Olanda e alcune terze potrebbero capitare con noi. Ad esempio la prima C, la prima D e la prima E, che sembrano i classi del liceo, ma le prime classificate ovviamente di questi gironi, vengono dalla parte del tabellone che ci accompagnerà fino alla semifinale. Quindi il tabellone nostro. Ricordiamo che invece l'altra parte del tabellone ci sono già Spagna, Germania e Portogallo e questo per il percorso finale è molto importante. Oltretutto la Spagna sicuramente affronterà una migliore terza. La Germania invece affronterà la seconda del girone C, che se non sbaglio è proprio questa di Francia-Olanda, quindi già diventa, rivediamolo, perché adesso le classifiche, il girone C, no scusate, Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia, qui ancora tutto aperto, molto probabilmente l'Inghilterra arriverà prima, quindi la Germania affronterà una tra Danimarca, Slovenia e Serbia. Il girone D è Olanda, Francia, Austria e Polonia. Andiamo a vedere, perché la prima del girone D verrà dalla parte del tabellone dell'Italia e potrebbe essere un'avversaria dell'Italia in semifinale. Chi può affrontare in caso di passaggio con la Svizzera l'Italia? Una tra, la prima classificata nel gruppo C, che è appunto l'Inghilterra, o quantomeno dovrebbe essere l'Inghilterra, l'Inghilterra dovrà sfidarsi con la terza del gruppo D, E e F, O F. Quindi o con una tra Austria e Polonia, probabilmente, Slovacchia, Ucraina, qui stanno Slovacchia, Ucraina, Belgio e Romania, qui non lo mette tutte perché stanno tutti a tre punti, e F abbiamo detto la terza, quindi vediamo che succede, perché anche la Turchia potrebbe rientrare con l'ultima, però ci sono Repubblica, Ciega o Georgia. Quindi questo è il tabellone, sostanzialmente la previsione potrebbe essere una semifinale Inghilterra-Italia da un lato, dall'altro è molto difficile, dall'altro è molto difficile perché abbiamo detto la seconda C, se l'Inghilterra invece non si suicida, e da là c'è stanno Germania, Portogallo, ad esempio ecco, l'altro ottavo è tra la seconda D e la seconda E, a me mi pare di parlare di scuola, quindi o tra Francia e Romania o Belgio potrebbe essere, questo è il lato sopra, quindi se vanno ad esempio Olanda e Belgio, ci sono altre due toppe europee che stanno nell'altra parte del tabellone che quindi noi ne incontriamo in finale, sostanzialmente quello che voglio dire per chiudere, perché sennò fanno un video lungo, un macello, è che probabilmente la più tosta la potremmo incontrare in semifinale che è l'Inghilterra, se non ho letto male, perché ovviamente l'ho fatto tutto live, e questa è una grossa occasione, l'Inghilterra nelle ultime sfide che abbiamo avuto grande, tra virgolette, fortuna, nel senso non abbiamo fatto grandi prestazioni, le abbiamo perse entrambe, sia a Napoli, no? Lo ricorderete tutti, sia poi a Wembley, se non ricordo male, abbiamo perse tutte e due, però ovviamente in queste occasioni l'Italia, ragazzi, è superiore a tante squadre, quindi questo non ce ne dimentichiamo mai, è per questo che ritorno al termine causato ieri spontaneamente dopo il gol del Zaccagni, che culo? attenzione al nostro culo, agli avversari, perché oltre al blasone, alla storia, all'abitudine che abbiamo di affrontare certi tornei, e quest'anno c'abbiamo pure il culo, e questa non è una dote da poco, quella del lato B. Va bene ragazzi, allora io vi saluto anche per oggi, vi ringrazio per aver visto il video, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel mi piace, se è arrivato paro paro con le campane, condividete e commentate, ditemi cosa ne pensate di quello che vi ho detto, vi lascio con le campane di mezzogiorno, il video uscirà entro l'una, spero, dipende dalla connessione, ditemi cosa ne pensate, ne parliamo nei commenti, oppure vi rispondo nel video di domani. Un bacio, buona giornata, dal vostro Max, Forza Roma e Forza Azzurri, ciao ciao!